ciao ragazzi siamo laboratorio ben ritrovati torniamo a parlare di costruzione dei nostri materiali torniamo a fare un appunto anche sugli amadori quindi sulla radicazione come fare per avere un risultato primo perché già raccogliere le piante in giro è un problema se non si va nei luoghi dovuti secondo perché molto spesso si fa molta fatica si raccolgono delle belle bestie molto spesso che hanno anche un gran valore poi quando mettiamo giù magari dopo 6-7 mesi crolla tutto la pianta muore ok torniamo a parlare anche di valutare una pianta in fase d'acquisto cosa ricercare per fare colpo grosso ok quindi materiale bomba materiale che funziona materiale che diventerà una madonna che è una pianta della madonna pianta di valore che alla fine in mostra farà dire bau bau a tutti ok soprattutto a tutti quelli invidiosi che ragazzi che non dicono mai si avevi ragione vediamo 360 grande tanto la mia la mia filirea come sapete una pianta che ancora in fase di aggrappamento appena comprata questa bel materiale veramente facciamo appunto la situazione pianta sta bene sta già iniziando a vegetare appena appena ah per quelli che dicevano ah no non dargli il concimo perché bruci tutti i capillari bruci bruci questo queste sono le radici che sto bruciando ok cazzate pianta sta bene pianta è partita adesso c'è bisogno di stimolare la pianta alla ripartenza e primavera non vedo quale sia il problema primavera la pianta riparte aiutarla a ripartire ok non è un'equazione impossibile quello che bisogna fare semplicemente invece che guardare 200 cosine le mare la luna l'oroscopo concimate fine ogni 15 giorni ok quindi tenete starter bonsai gold krypton biodopet la pianta si rinforza fa radici sotto perché per quanto riguarda anche gli amadori pianta raccolte in natura ovviamente ci vuole un substrato granulare che funzioni perché se no se usate l'argilla torba problema che si incolla tutto e i capillari soffocano la pianta crolla ok quindi sul substrato specifico tenete starter gold per aumentare la radicazione in maniera esponenziale praticamente ragazzi le piante raccolte sono in pericolo di vita bisogna semplicemente velocizzare ogni processo che le porti poi alla salvezza ok e come se a voi vi tagliano le gambe a un certo punto o vi ricrescono oppure dovete chiudere la ferita ok torniamo al discorso acquisto materiale di valore come vedete ragazzi il primo impatto può sembrare nulla di che no una pianta un coso messo lì e si vedrà ancora di meno quando la pianta sarà piena in esplosione no che sarà tutta verde quindi ragazzi per quanto riguarda che luci foglie in generale compratele sempre quando sono spoglie non mettetevi neanche a valutarle se sono le foglie ok lasciate perdere chiedete delle foto dell'inverno con calma vedete il piede se c'è movimento quello che è perché adesso ragazzi vi beccate delle inculate che sono infinite soprattutto sui social roba stravalutata roba che vale 30 euro messa su a 180 190 robe che ragazzi poi per carità ognuno ha il portafoglio che ha quindi molte persone sono anche disposte a pagare tanto della gran mondezza ok come vediamo ragazzi le caratteristiche principali di questa pianta sono nei vari quindi il piede c'è un'attaccatura molto molto bella movimento ha una s molto naturale che rientra e poi torna in avanti con questo apice qua e devo dire che come materiale ragazzi dieci elode ok primo per una questione di piede corteccia movimento secondo per una questione poi di rami questa è una pianta che sta facendo i rami dappertutto quindi in autunno ragazzi la impostiamo insieme in un tutorial avanzato specifico tra l'altro sono contento che lo state comprando il mio nuovo tutorial quello sul sito sta andando a bomba ci sono dei contenuti aggiuntivi è un video che dura quasi 30 minuti quindi sono contento tanto che mi sta piacendo tantissimo ok qui ragazzi faremo una bella impostazione quindi vi faccio vedere l'impostazione primaria della pianta l'impostazione strutturale quindi come creare lo scheletro primario quello che ci serve poi per costruire la pianta in due anni che in due anni massimo tre anni viene fuori una roba della madonna ovviamente a patto che la pianta si sta impostata bene perché sennò ragazzi bisogna tornare indietro smontare quello che alcuni definiscono restyling ha fatto una cazzata dopo un anno si accorgono sì e no dico che devo cambiare qualcosa restyling no non è restyling quello ragazzi è lavoro fatto male che va ripreso quindi significa due anni buttati nel cesso ok una cosa fondamentale per quanto riguarda questa pianta che adesso esploderà farà un sacco di vegetazione e non si capirà più niente primo ragazzi non si deve interessare perché tanto nella prima fase di stagione l'obiettivo è semplicemente far rinforzare allungare secondo non ci interessa neanche se fa interno di lunghi corti medi foglie grandi foglie stra zero non ce ne frega niente ragazzi che l'unica cosa che dobbiamo pensare è la costruzione di rami nuovi quindi guardare la qualità dei rami semplicemente se iniziano a legnificare e se stanno bene perché poi in autunno ragazzi come ho detto bisogna impostarli che quindi ci concentriamo sui rami per quanto riguarda defogliazione su una sempreverde a me piace defogliarle parzialmente creando una specie di ricambio fogliare non adesso assolutamente no adesso no prima si fa vegetare tutto con la pianta matura andiamo a togliere tutte le foglie dell'anno precedente praticamente le foglie che saranno ascellari alla ramificazione ok a patto che la pianta sia piena di vegetazione sia quattro foglie incroce ragazzi lasciate stare anche con le vecchie perché male non fa anzi fondamentale per fare la sopravvivenza della pianta soprattutto su pianta appena raccolte un'altra cosa fondamentale all'inizio ragazzi quando raccogliete le piante come ho già detto è veramente fondamentale lasciare tutto così com'è non fare operazioni perché la pianta si sta impegnando a sopravvivere a creare radici sotto quindi velocizziamo ogni meccanismo cerchiamo di lasciare anche vegetazione che parte da dove non si sa da dove non deve stare ok anche questi polloni magari partono di polloni da qua da lì ci serve tutto più roba fa sopra più stimolata fare roba sotto ok ci iniziate hanno quello tic tac togliere fare ah no adesso è ragazzi state semplicemente i coglioni al bonsai e questa cosa non va bene non va bene un'altra cosa ragazzi questa è una pianta molto 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 particolare ed è questa qui le piante che dovete andare a ricercare ok perché a movimento sinuoso irregolare ok la pianta deve essere asimmetrica non deve mai avere una forma simmetrica come un triangolo perfetto un quadrato un rettangolo deve essere sempre nei movimenti asimmetrici una curva un po larga una stretta che chiude torna su per capirci lasciate perdere tutte quelle piantine da vivaio che sono fatte così adesso che quelle sono forme che non vanno bene anche se costano poco anche se sono grosse che uno può essere impressionato però è una bomba non è una bomba ragazzi è una merda cioè è una roba che non diventerà mai nulla portare avanti materiale problematico ragazzi non va bene stesso discorso che faccio sempre ok una pianta magari la trovate che è bella costa al giusto però non è la specie di pianta che funziona bene da voi ragazzi passo 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 subito occhi chiusi fino oppure la prendete l'anno dopo era sistemato un po la vendete subito ok e ci fate il doppio di quello che l'avete comprate ovviamente questa è una cosa che io riesco a fare riesco a fare anche il quadro 5 6 volte tanto perché ovviamente un lavoro fatto bene comunque poi riesce a dare valore alla pianta ovviamente un lavoro fatto bene costa i soldi ok a certo punto il lavoro di un professore stava pagato un'altra cosa ah tornando alla questione pianta che non funziona nel clima ragazzi dovete rassegnarvi ragazzi cioè è inutile che state lì a cercare la pianta bella che però non fa per voi che non funziona lì se cercate tanto di prendere piante che funzionano solo bene però quando siete un po avanzati dovete fare uguale non c'è un cazzo da fare quando la pianta funziona bene ok e sta bene nel clima quando siete diventati bravi dovete fare la stessa cosa perché dopo andate a scalare ne comprate 4 5 che stanno bene che stanno bene sempre e avete carta bianca cioè quello che dovete capire non è che adesso sono più bravo allora mi compro un lari ce lo tengo in sicilia non funzionerà mai anche se siete bravi a coltivare cercate soltanto di prendere piante facili primo per non complicarsi secondo perché è molto più divertente una pianta che è in grado di uscire di violenza di potenza quando la concimata bomba ragazzi mi fa divertire il triplo e invece è una pianta che anno dopo anno si stravolge esce fuori dagli schemi la potete modificare come cazzo volete potete fare quello che volete vi farò vedere in autunno con questo video tutorial speciale ragazzi avanzato e questa pianta una volta impostata diventerà un master una bomba esagerata tutto quello che adesso qui sembra piatto ok io vado a creare conicità tirando fuori i rami e impostandoli creando poi del movimento tirando fuori un qualcosa che nessuno ha c'è anche una bella vena di secco che andremo riprendere questo ragazzi anche come dimensione cercate sempre di comprare piante del genere perché vi farà fare assolutamente salto di qualità vi farà tirare meno bestemmie possibili perché piante gigantesche poi dopo la schiena ne risente ok adesso è il momento di andare giù come delle bestie assassine non state lì a fare no ma però adesso la pianta parte con le energie dell'autunno ma che cazzo vuol dire come dire adesso io oggi non mangio perché ho mangiato ieri sera sono tutte cazzate ok ha preso da mangiare un autunno avete fatto bene a darglielo adesso però di nuovo cazzo perché c'è bisogno di dare da mangiare una pianta che sta per muoversi quindi se adesso volete fare le robe al 100% ci date giù come degli animali se volete farle 50 40% fate come cazzo vi pare considerate questa cosa una pianta che lavora al 100% primo è inarrestabile secondo è inattaccabile da ogni problema da qualche parassita secondo se viene attaccato dai parassiti a un certo punto vi accorgerete che fa tante foglie in più che non se ne accorge neanche perché tanto ha talmente tanta roba per sopravvivere che anche le foglie rovinate ragazzi diventano semplicemente un danno estetico ok l'anno scorso io avevo quella quercia il leccio con il leccio grosso che avevo due tre anni fa un anno mi aveva preso il mal bianco ragazzi facevo tante di quelle foglie velocemente e alla fine quello è diventato semplicemente un problema circoscritto ho tagliato tutte le foglie rovinate gel di silice su tutta la pianta fine del problema ok a bomba ragazzi fate esplodere veramente le piante perché piante che partono già un pochettino in difficoltà alla prima cazzata che succede crollano e per riprenderle ci vogliono due tre anni ok non comprate mondessa perché a un certo punto vi accorgerete che se vi muore la pianta è un bel risultato per voi perché quelle piante lì non le vendete più ok vanno a finire solo nel cesso ok la verità fa male però certo punto bisogna accettarla la pianta di merda non diventerà mai una bomba atomica ok una pianta così ragazzi materiale vergine per carità potete comprarlo tranquillamente a due trecento euro che non è una cifra che dici oh no mamma mia devo tagliarmi un rene devo uccidermi no è una pianta normalissima che si compra da qualche raccoglitore da qualcuno che le ha ok se potete le raccogliete ok a bomba ragazzi ciao a tutti